Ciao a tutti con un nuovo video è da una vita e mezza che non registro motivazioni sono mancanza di ispirazione mancanza di voglia non avere tempo ora ho molto tempo ma mi manca sempre ispirazione e voglia cioè no, la voglia in realtà c'è ma l'ispirazione manca quindi non è che faccio video random però oggi ho deciso appunto di fare un video random o meglio è un video che da tanto che voglio fare ma non ho mai avuto diciamo l'occasione per farlo e visto che ho del tempo da buttare ho detto bene oggi lo registriamo quindi andremo a fare il mio everyday makeup routine la mia scusate la mia everyday makeup routine con una piccola parte anche di skin care perché prima del trucco io utilizzo crema, tonico e quant'altro quindi sono due o tre cose che utilizzo magari tutti i giorni che riguardano però la skin care iscriviti al nostro canale e quindi andremo a fare il 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 nostro canale